Amici del sito www.gianlucarossi.it del canale YouTube Gianluca Rossi TV, un buongiorno. Beh, era abbastanza prevedibile che nell'anticipo della 33esima giornata nell'antipasto l'Atalanta facesse un sol boccone del Brescia nel derby Lombardo. 6 gol, 2 subiti. Devo dire che anche la bistrattata Inter aveva battuto 6 a 0 il Brescia. Adesso l'Atalanta è arrivata a 93 gol. Il record è del Milan, credo, 49-50. Torniamo al dopoguerra nei campionati a 20 squadre con 118 gol. Francamente trovo un po' difficile che l'Atalanta, che è la squadra indubbiamente più in forma del campionato, riesca a fare 25 gol in 5 partite per andare a pareggiare quel record. Ma non è importante, insomma. È importante che l'Atalanta è la grandissima rivelazione del campionato, il piazzamento migliore nella storia del club nero-blu. Davvero fantastica, è inutile che ne continuiamo a parlare. Fanno delle cose straordinarie questi dell'Atalanta-Bergamasca calcio e quindi chapeau. Tanto di cappello. Io credo però che, adesso oggi giocano tutte le altre squadre, io credo però che domani sera a Ferrara l'Inter, completando il quadro della 33esima giornata, possa riprendersi il secondo posto. Intanto devo dire che il 3-1 al Torino, io ve l'ho segnalato da cronista che c'erano delle tensioni perché il mio mestiere, lo ricordo sempre, non è quello di fare il tifoso ma di fare il cronista e di raccontarvi quel che succede. La tensione era percepibile, la tensione da Conte era abbastanza percepibile, al di là poi delle più morbide dichiarazioni ufficiali. Devo dire che quell'ora è un quarto dopo Inter-Bologna ha un pochino spiazzato tutti, perché insomma lui ha inveito contro mezza squadra, ha inveito in pratica, come già aveva fatto dopo Borussia Dortmund-Inter, lo ricorderete, un po' contro tutti e non è che la società sia rimasta indifferente. La società ha cominciato a preoccuparsi, a dire ma questo se mi dà fuori di testa in questo modo, stiamo cercando di accontentarlo in tutto e per tutto e a chi mi ne è una prova. Caro Antonio Conte, abbi un attimo di pazienza, stiamo cercando ovviamente di andare nella tua direzione, ma non è che ci riesce di fare tutto subito, anche perché sapete che Suning insomma il metodo di comprare i giocatori è sempre quello di provare prima il giocatore in prestito, poi in prestito oneroso, poi gli paghi una parte tu dell'ingaggio e Conte li vorrebbe tutti subito a disposizione e purtroppo nella vita non è che si può avere tutto subito. Io per vieco interesse di voglia, di rientro prima possibile nell'Albodoro, è chiaro che sto dalla parte di Conte, ma francamente con un po' di razionalità devo capire anche le esigenze della società che sta cercando di andargli dietro, ma lui corre a tripla velocità, insomma tu non vai bene, tu non vai bene, ricorderete il povero Politano dopo Borussia Dortmund Inter che all'entrato si era pure fatto male, tac bocciato, via. Insomma ci vuole anche un attimo di tempo per accontentarti su pretese che sono molto costose. A proposito di mercato, devo dire che in questo momento si sta, c'è un filo diretto Milano-Londra, in particolare col Chelsea, in particolare con Lampard, insomma Marotta sta lavorando per accontentare Conte che adesso del Chelsea ne vuole tre. Uno lo conoscete da tempo, fin dall'anno scorso, è Olivier Giroud che dovrebbe essere il vice Lukaku, è un giocatore di provata esperienza internazionale che Conte vuole portare in rosa al posto di Esposito che andrà fresco di rinnovo di contratto a fare esperienza altrove, ma si può capire che Conte voglia una punta, la voglio anche io, una punta più esperta, con tutto il bene che posso volere al giovanotto. L'altro, lo sapete, Conte chiedeva a Marco Cialonso che era la prima scelta e adesso diciamo che è disposto, bunta sua, ad accollarsi, che non mi sembra male, è Emerson Palmieri che è un giocatore che ha già esperienza italiana, che comunque consente anche con le norme adesso economiche di avere un buon risparmio, perché l'Inter pur avendo Emerson Palmieri dal 2018 passaporto anche italiano, potrà godere di un regime fiscale comunque agevolato in caso di rientro in Italia, quindi c'è pure Emerson Palmieri e il terzo nome, visto che continua a menarla con Vidal, ma Vidal non si sblocca, ha scelto un'alternativa, devo dire Antonio Conte che a me piace moltissimo e che è ancora più costosa, che è Ngolo Cantè. Sì, parliamo un po' tutti di Ngolo Cantè perché è vero che l'Inter lo prenderebbe domani mattina, purtroppo bisogna vedere un attimo le condizioni economiche in cui ti danno Ngolo Cantè, stiamo parlando di un vice campione dell'Europa del 2016, un campione del mondo con la Francia nel 2018, di uno che ha vinto lo Scudetto, essendo la rivelazione nell'Eister di Ranieri, di un giocatore che subito dopo ha vinto un'altra Premier League consecutiva proprio nel Chelsea di Antonio Conte, Antonio Conte lo conosce benissimo, stravede per lui grande recuperatore di palloni, grande intelligenza tattica, un uomo in mezzo al campo che è sicuramente alternativo a Vidal e che per certi versi ha 29 anni, è ancora più giovane di Vidal ed è un giocatore che può durare, voglio dire, anche nel tempo, diversi anni. Il problema è che portare Cantè all'Inter ragazzi non è esattamente facile, come non è stato facile portare Hakimi perché comunque hai dovuto pagarlo tanto, hai dovuto spuntarla su una concorrenza che era guerrita perché Hakimi è uno dei prospetti assolutamente più interessanti dei prossimi anni. Insomma, quindi adesso Conte la sta menando con Cantè che io ve lo devo dire sinceramente, io da cronista che racconta l'Inter da 30 anni non posso dire che non sia giusto avere una dittatura calcistica perché altrimenti questi fanno quello che vogliono, che non sia giusto avere dei grandissimi giocatori per riportare veramente l'Inter in Albodoro al di là del solito slogan Inter is coming che poi is coming sta tornando ma in realtà nell'Albodoro non ci sta tornando. Allora io dico, mi piacerebbe tantissimo Cantè, capisco le richieste di Conte e le vorrei, le farei anch'io per portare l'Inter ma è chiaro che in questo momento insomma siamo sempre lì con Marotta che cerca di mediare tra una proprietà che dice ma insomma mi vuole tutti e subito un attimo e Conte che è il primo a stare male perché non vince subito, sta male peggio degli altri. Poi mi dicono Conte non è interista, sicuramente non ha una storia interista ma vi assicuro che Conte sta male più di tutti gli interisti perché non rientra al volo in Albodoro e quindi lui non vuole più discussioni, cioè l'anno prossimo vuole essere competitivo al massimo grado, se quelli c'hanno Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Di Bala e chissà quanti ancora e Arthur e via dicendo, bene lui vuole avere giocatori di dimensioni internazionali che siano in grado di togliere subito alla Juventus questo scettro del campionato che dura da nove anni. Quindi ribadiamo, filo diretto sul mercato col Chelsea, Olivier Giroud come punta di riserva, poi io vi dico le cose, poi bisogna vedere se riesce a portarla a termine, siamo sempre qui. Emerson Palmieri sulla sinistra, anche se la prima scelta, torno a dire, era Marco Alonso, ma costa decisamente 10-12 milioni di più e adesso se proprio non ce la si fa con Vidal, che secondo me sarebbe una soluzione invece molto meno costosa e quindi invito la società Inter a dare la zampata su Vidal e non parliamone più, perché la scelta che poi ti propone è ancora più di prestigio ed è ancora più costosa, Ngolo Kanté. Ragazzi, Ngolo Kanté è un giocatore straordinario che però Lampard potrebbe e a determinate condizioni anche lasciar partire. Conte lo sa, Conte ancora contati col Chelsea ed è chiaro quindi che Conte non vede l'ora di avere Ngolo Kanté. Anch'io non vedo l'ora, però tra dire e il fare c'è di mezzo il mare o meglio c'è di mezzo Suning con i suoi tempi, con le sue trattative, spesso anche lo stesso Marotta vorrebbe accelerare ma ovviamente deve aspettare certi ok. Auguriamoci davvero di avere un'Inter altamente competitiva per l'anno prossimo, sicuramente Hakimi è un giocatore straordinario di grandissima competitività, sicuramente lo è Emerson Palmieri rispetto alle seconde scelte che sono state date a Conte quest'anno, lui vuole tutto subito e guardate che quando vi ho descritto la grande tensione che a un certo punto, che speriamo si stia per l'operato di Marotta pian piano diluendo, non vi raccontavamo cose a caso, lo sanno anche in altre società, lo sanno alla Juve perché lo conoscono, lo sanno al Milan che Conte quest'anno è impaziente, molto più di quanto lo era prima e quindi è per questo che ci si domanda se questo rapporto possa proseguire insieme senza litigare. Per ora vi vorrei tranquillizzare, nessuno ha litigato, l'allenatore anzi ultimamente nelle dichiarazioni di facciata è stato molto più collaborativo ma dentro, dentro gli brucia questo fuoco, questo fuoco che però secondo me non deve essere visto negativo da parte dei tifosi nerazzurri perché poi l'obiettivo che abbiamo tutti è lo stesso, vincere, solo che Conte ce l'ha molto più veloce, molto più pressante di noi, questo vuole vincere subito, io pure, ma io non conto nulla, non spendo i soldi, i soldi non sono miei e quindi con grande razionalità cerco anch'io insomma di capire quella che è la posizione di Sunini perché già con Akhimi ti hanno dimostrato che ti stanno seguendo, quindi Conte anche tu un attimo di pazienza che vedrai che faremo tutto presto e bene, basta veramente mettersi attorno a un tavolo, parlare e riuscire ad avere la calma anche se ci sono delle difficoltà, non si costruisce una squadra vincente nel giro di poco tempo, purtroppo questa non è possibile, dobbiamo averlo capito, intanto cominciamo a cercare di ritornare al secondo posto al termine di questa trentatresima giornata vincendo a Ferrara contro la spalla, ragazzi io non prendo neanche in considerazione l'ipotesi di un giro a vuoto a Ferrara, voi potete dirmi quello che volete ma io non posso assolutamente prendere in considerazione l'idea che domani sera l'Inter giri a vuoto, bene vi bacio, vi saluto, grazie per le vostre visualizzazioni, grazie per le vostre iscrizioni, gentili amici e ricordatevi che nella vostra testa ci deve essere sempre e solo una cosa, l'Inter e lo dico a quelli che sono tifoidi ma quello è della Juve, l'Inter, vince l'Inter che poi in panchina ci sieda uno che è stato altrove, che poi in campo ci sia uno che magari non è cresciuto interista, a me non me ne frega niente perché il risultato finale è di portare l'Inter al più presto possibile in Albodoro, Conte fosse per lui vorrebbe già tra un minuto ma capite anche voi che al momento non è possibile, quindi calma e gesso e facciamo tutte le cose o quasi tutte le cose che possiamo fare per portare l'Inter veramente nel gota, riportare anzi l'Inter nel gota del calcio italiano ed europeo, vi bacio, viva l'Inter sempre, 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 ciao!